un ciao a tutti vederosi benvenuti a questo appuntamento con tecnoglass fra poco scopriremo che cosa vuol dire tecnoglass e ascoltate con particolare attenzione perché ci sono delle promozioni davvero interessanti per voi ma sentiamo innanzitutto da uno dei titolari federico che cos'è tecnoglass e come nasce ciao buonasera rosi e buonasera a tutti i telespettatori tecnoglass è un'azienda che è nata dieci anni fa dalla grande passione per le auto mia e del mio socio matteo che vedremo durante la trasmissione diamo un servizio a 360 gradi per tutto quello che riguarda il mondo dei vetri auto che cosa significa questo diamo vari servizi dalla riparazione di un cristallo alla sostituzione completa di tutti i cristalli delle auto vetture alle ricalibrature dei sistemi adas che sono i sistemi avanzati alla guida infine la personalizzazione con l'oscuramento vetri auto guarda hai toccato un punto particolarmente interessante quando hai parlato secondo me dei sistemi adas perché sappiamo che funzionano grazie alle telecamere grazie a dei sensori che sono posti sul parabrezza per cui mi sembra veramente un argomento molto dedicato appunto andare a ricalibrarli una volta che si sostituisce il parabrezza magari non tutti sono in grado di farlo nel modo corretto non tutti sono in grado di farlo nel modo corretto ma soprattutto una volta sostituito il cristallo è obbligatorio ricalibrare questi sistemi perché sono sistemi che mantengono le strisce le righe che troverete per strada alcune hanno la frenata assistita e per la sicurezza è fondamentale ricalibrare questi sistemi assolutamente sì perché ripetiamo ricordiamo che sono ormai presenti su tantissime vetture fanno parte veramente della sicurezza dell'andare in auto e quindi mi sembra molto importante questo oltre naturalmente alla possibilità di personalizzazione magari vi interessa anche solo oscurare i vetri ecco a proposito di oscurare i vetri voi avete un sistema che mi hai fatto vedere prima che è particolarmente interessante e anche quello non l'ho visto molto spesso anzi direi che è la prima volta siamo esatto rosi siamo in pochissimi in italia a disporre di questo di questo software abbiamo questo software con all'interno tutte le dime dei cristalli delle vetture circolanti ci permette di eseguire la lavorazione con una precisione assoluta e soprattutto ci fa guadagnare molto tempo per effettuare la lavorazione certo certo avete capito proprio bene intanto state vedendo come come si effettua questa lavorazione normalmente almeno per me io l'ho visto parecchie volte nelle concessionarie si applica una pellicola non so rettangolare e poi si vanno a ritagliare secondo la forma dei vetri invece voi avete già la forma del vetro precisa ritagliata direttamente e questo è molto importante per far risparmiare tempo che sia un privato che sia una concessionaria perché voi lavorate con entrambi soprattutto con le concessionarie ma negli ultimi anni sono cresciuti molto i privati vorrei aggiungere soltanto una cosa riguardo all'oscuramento dei vetri perché tanti pensano che sia solo un discorso a livello estetico invece l'oscuramento dei vetri da vari vantaggi la prima che rende in sicurezza i vostri vetri nel senso che se si dovesse rompere un vetro le schegge non cadono addosso ai vostri cari ai vostri figli ai vostri animali un altro vantaggio molto importante che riduce notevolmente il calore all'interno dell'autovettura e c'è anche un discorso di privacy che non fa vedere a occhi indiscreti il contenuto dell'autovettura certo anche questo mi sembra molto importante e ecco tu hai detto che lavorate soprattutto con le concessionarie ma nel momento in cui è cresciuta l'esigenza da parte dei privati avete aperto questo bellissimo centro permettimi di dirlo quando sono entrato è proprio molto bello questo pavimento blu questa grande pulizia questo grande ordine è veramente molto importante perché avete bisogno di un ambiente così abbiamo bisogno di un ambiente molto luminoso molto pulito e abbiamo appunto una zona dedicata all'oscuramento dei vetri poi vorrei lanciare una promozione per tutti coloro che diranno di aver visto la trasmissione vorrei fare vorrei farvi un regalo un buono sconto del 20 per cento su tutti i nostri servizi e in più una sanificazione all'ozono in omaggio ah perfetto quindi 20 per cento di sconto su tutte le lavorazioni e anche la sanificazione insomma più di così grazie mille da parte dei telespettatori ma ricordatevi di dire che avete visto la trasmissione avete visto la rosi siamo arrivati quasi al termine della trasmissione ci hanno raggiunto anche Matteo e Veronica volevi aggiungere qualcosa? sì buonasera a tutti volevo solamente aggiungere che come diceva Federico della parte dell'astituzione dei cristalli noi collaboriamo con tutte le assicurazioni e quindi tutti i clienti possono contattarci perché faremo tutto noi e tutta la parte amministrativa della pratica dei cristalli quindi vi aspettiamo grazie Veronica questa è un'altra cosa importante voi non dovete pensare a niente solo a scegliere Tecnoglass per la sostituzione del vostro parabrezza grazie Veronica alla prossima grazie a te grazie Matteo buonasera Rosi vi aspettiamo numerosi grazie a te Federico grazie Rosi e buonasera a tutti grazie a te